Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video Oggi siamo qui per parlare di Klopp Oggi siamo qui per parlare dell'annuncio che ha fatto Klopp proprio ieri Perché l'allenatore tedesco ha annunciato l'addio del Liverpool a fine stagione Un annuncio veramente incredibile Perché io credo che nessuno si aspettava una roba del genere Io in primis, quando sono tornato a casa di lavoro per la pausa pranzo Quando ho acceso il telefono e sono andato su Twitter E ho visto sto video di Klopp che annunciava sta roba Ho detto, vabbè, questo è stato creato dall'intelligenza artificiale Sarà uno scherzo del Liverpool, sarà uno scherzo così per far prendere un colpo ai tifosi Poi vado a leggere qua e là e capisco che non è stato creato dall'intelligenza artificiale Ma Klopp ha preso questa decisione Klopp ha preso la decisione di prendersi un anno sabatico Due anni, tre anni, questo non se sa E oggi siamo qui un attimo per parlare un po' di tutto Per dirvi prima cosa la mia su quello che ha detto E soprattutto vi voglio dire la mia sulla decisione che lui prende Capisco che questa è una roba privata Perché non possiamo sapere quello che lui sta passando Però personalmente questa scelta per me è una stronzata A quelle da lì, con il blasone che ha lui E con l'hype che ha lui intorno, soprattutto negli ultimi anni Abbandonare e prendersi uno, due, tre anni sabatici per riprendersi Mettiamola così, è una stronzata Una grandissima stronzata Quindi un attimo parleremo di queste cose e vi dirò la mia Ovviamente io voglio sapere la vostra qua sotto nei commenti Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella Ma soprattutto lasciate like a questo video per, indovinate un po', supportare il canale Detto ciò partiamo dalle dichiarazioni Guarda, io non prendo niente perché ormai credo di averle lette così tante volte Cioè ho riletto quelle dichiarazioni su 200.000 pagine diverse Che ormai le ho imparate in memoria Il succo del discorso, cioè quello che dice lui è Io voglio condurre una vita normale Mi sono stufato di tutti questi impegni Mi sono stufato di tutte queste partite Mi sono stufato di tutte queste ansie Voglio un attimo staccare la spina Cioè il concetto del club è questo Mi sono stancato, voglio un attimo riposarmi Voglio godermi, tra virgolette, la pensione No, come si dice in cerco Voglio un attimo rilassarmi Non mi rompete le scatole Io voglio star fermo per uno, due, tre, quattro, cinque, sei, set Finché me ne va, io non voglio rotture dei coglioni Questo è il discorso del club Il ragionamento del club Però allo stesso tempo per me sto ragionamento non porta Non porta perché lui dice di aver avvisato la società già a novembre E io non capisco perché Annuncia la società del tuo addio a novembre Aspetti gennaio, quasi febbraio Per annunciarlo ai media Cioè c'è qualcosa che non porta Tutti questi mesi tu che hai fatto Perché non l'hai annunciato prima Perché è stato annunciato poi La squadra lo sapeva Non lo sa L'ha scoperto Non credo che l'abbia scoperto con la dichiarazione Perché se non gliel'ha manco detto sarebbe follia Fatto sta che già sta cosa a me Non è che mi quadra tanto Perché uno può dire Vabbè prima lo dice la società Prima lo dice i giocatori Perché è giusto così Ok? Ma è giusto pure che i tifosi lo sappiano Non è giusto che tu lo dici a novembre A X Ai giocatori Alla società E poi aspetti gennaio, febbraio Per annunciarlo ai tifosi Quindi per me già qui c'è qualcosa che non porta Più la cosa che non mi porta ancora di più È che lui st'estate Più o meno Quest'estate Ha rifiutato Un'offerta da parte della Germania A lui è arrivata l'offerta da parte della nazionale tedesca Quando la Germania ha praticamente esonerato O non è che lo stava per esonerare Flick Quando la Germania stava per esonerare Flick Ha provato a pressare l'allenatore tedesco Ha provato a spingere l'allenatore tedesco Ad abbandonare il Liverpool Ma non ricordo bene il periodo Se era l'estate o nella stagione scorsa Comunque si ha insistito parecchio la Germania E non è riuscito mai Cioè la Germania non è riuscita mai a convincere Klopp Ad abbandonare il Liverpool Germania All'enala nazionale significa rispettare quello che lui dice Che lui dice che vuole meno impegni Meno cavoli Meno lavoro eccetera eccetera Vai all'enala nazionale e fai come ha fatto Spalletti Ha vinto uno scudetto dopo 33 anni con Napoli Si è goduto la festa Le ansie I momenti sia belli che brutti Ha staccato a spina andando all'enala nazionale Però rimanendo all'interno del gioco Rimanendo all'interno del calcio E quindi mantenendo Comunque sia l'hype Perché nel momento in cui abbandona la nazionale È rimasto in attività E quindi ci sono delle squadre disposte a prenderlo Invece Cioè sta scelta sua de Rifiuto la nazionale tedesca Rimango con Liverpool Per poi prendere la decisione a novembre Di abbandonare il Liverpool E annunciarlo a febbraio Gennaio-febbraio Ai tifosi al mondo intero E mi prendo 2-3 anni sabatici 2-3 anni dove non faccio niente Per lo meno è questo quello che ha detto lui Un anno E poi capiremo quanto tempo A me un po' Sta cosa non mi quadra Per me Vi dico già il mio pensiero O poi vi dico il perché Per me è una stronzata sta decisione Allora Il mio pensiero personale È che Lui Ha altro in testa Per me è una stronzata che ha ricevuto un'offerta Irrifiutabile Perché non è possibile che tu Rinnovi con Liverpool L'anno scorso mi sembra Fai il video Io sono della società Tutto innamorato del Liverpool Eccetera eccetera Dopo un paio di mesi Rifiuti la Cermania Comunque sia c'è stata quella situazione Con la nazionale Arriva la stagione nuova Arrivano i giocatori Meccali Terzo Poslai Quello Quell'altro Quest'altro Innamorato del progetto Dell'idea De tutto E poi scappi fuori a novembre Che tu a novembre Perché queste sono parole sue A novembre Aveva già annunciato alla società Di voler lasciare Cioè per me c'è stato Un qualcosa O privato O sportivo Che gli ha fatto Crollare tutti i piani Che aveva Quindi per me E questo è il mio pensiero Capisco che molti di voi Non sono d'accordo Che su sta cosa Alcuni mi hanno anche scritto Su Instagram Mi hanno detto No Yarno Però se questo è quello Che ha detto Assolutamente Fino a prova contaria Io non è che mi metto qua Anche perché poco mi interessa Ha preso sta decisione L'ha presa per motivo X L'ha presa per motivo Y Non me ne frega nulla Ha preso sta decisione Punto E' ovvio che Alcuni di voi hanno voluto il video Quindi io vi dico la mia Per me è una mezza stronzata Quella che lui ha detto Un qualcosa per nascondere Altro Ma capiremo con il tempo Se sarà vero quello che dico O sarà falso Adesso vi dico Perché per me è una stronzata La scelta che lui ha preso Allora io capisco Che ognuno vuole vivere la vita A modo proprio E io non è che sto qui A giudicare la sua scelta Capite bene Io vi sto dicendo Solo il mio pensiero Una cosa che io Non avrei mai fatto Perché all'età che ha Klopp Cioè noi stiamo parlando Di un allenatore Che ha 53 anni 54 55 56 Non lo so Gira verso quella soglia lì Perché non mi ricordo Parliamo di un allenatore Ancora tanto Tanto Giovane Perché Ragazzi lo sapete Un allenatore Può allenare anche fino a 70 anni 72 73 Cioè ci stanno allenatori Che sono arrivati veramente A tantissimi anni 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 Avanti Quindi in questo momento Lui è nei suoi migliori anni Di carriera E abbandonare Il calcio Perché se tu ti vai a prendere Un anno Due anni Sabatici Comunque siete Prendi del tempo Per staccare la spina Te prendi del tempo Per non avere Niente a che fare Con il calcio Sì Te puoi informare Sì Puoi studiare nuovi metodi Puoi migliorare Però staccando la spina In quel modo Vai a perdere Di hype Vai a perdere Di credibilità Una credibilità Che lui ha lottato Per avere Lui ha lottato Tantissimi anni Per stare vicino Ad allenatori Come Guardiola Lui è molto In questo momento Klopp è uno Di quegli allenatori Pieno di hype Cioè Quando si parla di Klopp Si parla di uno Degli allenatori Più forti d'Europa Si parla di uno Degli allenatori Più forti Della Premier League Si parla di un allenatore Incredibile Alcuni l'hanno addirittura Messo tra i 5 Allenatori più forti Della storia Cioè Ha un hype E una credibilità E un rispetto Clamoroso Il problema è che Se tu stacchi la spina Non alleni Per un anno Due anni Questa credibilità La vai a perdere Completamente Perché Se perde Il calore Che si ha Cioè Voi prendete Antonio Conte Penso che Un po' Avete visto Quello che gli è successo Anche alla sua carriera Antonio Conte Ha vissuto Degli anni D'oro Dove aveva iniziato In Italia Ma anche all'estero A prendere Una credibilità Clamorosa Ha preso Una credibilità Clamorosa Poi è andato In nazionale E già lì Ha cominciato Un po' A traballare le cose Poi Ha staccato Con la nazionale È stato fermo Un periodo Poi è tornato a allenare E poi si è fermato Nuovamente Cioè Vedete che Già adesso De Conte Si parla Molto meno Ma molto Molto meno Soprattutto Anche in Italia In Italia Subitamente Il 90% Dei tifosi Ama Conte Eppure se ne parla Molto di meno Perché Lui ha bruciato Alcuni suoi anni Di carriera Migliori Per far Ste stronzate Ed è andata Allenare Squadra A casissimo Ha preso Delle decisioni Strambe Perché Stava all'interno Della società Come l'Inter Che c'era un progetto C'era un'idea L'ha abbandonata Completamente È andato al Tottenham Ma ha fatto un disastro Ha abbandonato Pure quello Cioè Ha fatto delle scelte Che l'ha portato Poi A perdere Di hype Di appeal E soprattutto A perdere Di credibilità Adesso Quando si parla De Conte Si parla De uno stronzo Che non ci puoi Fa progetti Adesso Non è che il club Abbandona il Liverpool E uno dice Madonna è stronzo Madonna non ci posso No Quello assolutamente no Perché rimane Pur sempre Una persona Molto ma molto Più tranquilla Molto più obiettiva De Conte O perlomeno Nelle decisioni Però perde Di hype Perché adesso Tutti parlano Di club Poi finisce la stagione Passa un mese Passa due mesi Passa tre mesi Quattro Cinque E la gente Comincia a dimenticasse Comincia a dimenticasse Chi è club Per lo più Non chi è club Quello che ha fatto club Quello che ha costruito club Perché lo sapete Com'è fatto no Il mondo È così Ma questo succede Anche nel mondo Delle società Cioè ci stanno Poi delle società Che Se adesso Sei libero Uno come club Sei libera Bayern Monaco Real Madrid Barcellona Tutte le squadre Europa ci provano Ma se passa un anno Tu anni E lui sta fermo Per sto tempo Non allena niente Non fa niente Perde L'hype Anche nei confronti Delle società Perché non ne parla più nessuno Perché non si sa Se è rimasto in attività A livello mentale Se Riesce ancora A fare la differenza Poi sappiamo che club È un allenatore Che ha bisogno di tempo Per costruire Quello che lui vuole costruire Quindi Io questa qui La reputo una stronzata Perché nei migliori anni Della tua carriera Non puoi abbandonare Per me Poi ognuno fa quello che vuole Però per me Prendere questa decisione È una stronzata È una grandissima stronzata Perché ora che lui Sta Ripeto Nei suoi migliori anni Devi sfruttarli Non li puoi buttare così Ripeto Non li puoi Per me Poi È giusto che pure lui dica I ritmi Io queste cose Non le vivo Non so com'è Sicuramente Non sarà facile Allena in Liverpool A quei livelli Sarà veramente complicato I pensieri Dentro la testa Che ci avrà avuto In questi anni Saranno stati Veramente tantissimi E alcuni anche bruttissimi Capisco quindi La pesantezza Anzi Non la capisco Perché non la vivo Però allo stesso tempo Posso dire Ci sta come cose Di voglio staccare un attimo La spina Però quelle da lì È come se Su Guardiola Si sveglia E vi dice Cioè dice Io lascio aperti Mi prendo uno o due anni Significa che tu Paradossalmente Ti rovini Perché Quell'allenatore Che vedete là Ci ha pensato A lasciare lo United Ci ha pensato A prendersi Un periodo sabatico Soprattutto post triplete Ma poi ci sono state Le persone intorno Che l'hanno spinto A continuare E vedete quello Che è diventato Immaginatevi Si Ralex Dopo il triplete Col Manchester United Prende la decisione Prendeva la decisione De lasciare De fermasse Per uno due tre anni Era il Si Ralex Che conosciamo adesso Cioè Tutto quello Che ha costruito poi La Champions League Il 2008 Tutto quello Che è successo poi L'avrebbe costruito Con un'altra squadra Oppure se sarebbe Ritornato lo United Avrebbe costruito Quello che ha costruito È quello capite Queste decisioni Sono pesanti Sono veramente pesanti Perché mettono In seria Serissima Pericolosità La tua carriera Quindi per me Questa scelta Che ha preso È nastronzato E allo stesso tempo Questa scelta Che lui ha preso Andrà ad intaccare Tantissimo Sul mondo Premier League Andrà ad intaccare Tantissimo Sulla spettacolarità Del campionato Quindi vedremo Quello che succederà Vedremo Il Liverpool Come lo sostituirà Per me Xabi Alonso De Zerbi De Zerbi Io lo vedo Molto molto bene Nell'idea del Liverpool Lo vedo Quell'allenatore Che può stare All'interno Di quella società Perché ha il carattere L'identità E credo che sarebbe Proprio La sponda più giusta Il post-glob Per De Zerbi Credo che sia La cosa migliore E anche per il Liverpool Stesso Perché vai a prendere Un allenatore giovane Da costruire Insieme a una squadra Da non rifondare Ma comunque sia Da sistemare Ovvio adesso Bisogna capire Come risponderanno I giocatori Io credo Che l'allenatore Abbia avvisato i giocatori Prima Molto prima Ma se ciò Non fosse successo Cioè se ciò Klopp non l'ha fatto Ci sarà una bella Botta mentale Vedremo quello Che succederà Ragazzi L'unica cosa Mi dispiace Mi dispiace Per quanto io Sia tifoso Lo United Mi dispiace Perché Ve l'ho detto A inizio video Io l'ho visto sempre Come un qualcosa Che a Liverpool Non finiva mai Se finiva Doveva finire Perché lui Proprio lasciava perdere Invece così Un po' Fa male pure a me Per quanto Mi interessi ben po' Io ragazzi La mia ve l'ho detta Fatemi sapere Qua sotto nei commenti Cosa ne pensate Vi ringrazio per la visione E alla prossima